Domenica 19 dicembre, ore 14.40, parte anche a Scandale, il Carnevale. Quest'anno in austerity anche a Scandale, niente carri come ormai succedeva da alcuni anni, ma di fatto una sfilata di maschere che le varie associazioni, la parrocchia, è riuscita a coinvolgere, come potete vedere, un sacco di gente. Tante maschere, tanti cittadini anche non mascherati, che da piazza San Francesco saliranno per il paese fino a piazza Condoleo, quindi dalla fine del paese all'ingresso perché arriva da Crotone. adulti, bambini la professoressa Artese è una maschera, un semplice sorriso per portare al mondo, pace e amore nel cuore, un pagliaccio in cartapesta, un segno con la continuazione dell'anno scorso, mentre come potete vedere una maschera un po' particolare fa l'altra strada, mentre qui abbiamo i pagliacci che chiudono questo corteo, al quale a differenza di tante altre manifestazioni e situazioni ha aderito un bel po' di gente qui a Scandale. e quindi buon carnevale a tutti!